Valentino Rossi e Francesca Sofìa Novello assaporano la prima dolce estate da genitori. I due sono al settimo cielo per la cicogna in arrivo, annunciata sul social. Avranno una bambina. Il settimanale chi mostra la coppia in una foto che l'immortala a bordo del nuovo yacht del campione a largo. Una mega barca da 26,7 metri realizzata dai cantieri San Lorenzo. Il costo base dell'imbarcazione si aggira sui 4.5 milioni di euro, stando a quanto scrive settimanale pare che Rossi abbia voluto delle personalizzazioni che hanno fatto lievitare il prezzo fino a 9 milioni di euro. La modella 27enne è splendida con il pancino, Valentino, 42 anni, sorride felice. La gioia è immensa. Sono giorni spensierati, nonostante l'addio e le corse in moto del campione, l'arrivo della loro prima figlia regala sensazioni indimenticabili. Entusiasti pure i genitori del pilota. In questi anni ho pensato spesso avando Valentino e Francesca se sarebbero sposati e che magari avrebbero anche potuto avere un figlio. Ma che io potessi diventare nonno non me l'ero mai figurato ha detto papà Graziano. Il resto del Carlino Valentino ha dato un assetto completamente nuovo alla sua vita e l'ha fatto con una classe invidiabile. La stessa che ha sempre avuto anche in pista. È il migliore anche in questa occasione. Sì, me lo sognavo gli ha fatto e con la moglie Stefania Valentino non è più un ragazzino. Queste sono le cose della vita e che riempiono una vita. La sua diventa più bella e intensa. Rossi e la novello riempiono le loro giornate con l'amore che li unisce da anni e una gravidanza tanto desiderata. Francesca Sofia si tiene in forma col pilates, il pancino è ancora impercettibile. Ma lo mostra ancora sul social insieme al compagno e a un amico, è andata a mangiare sushi con le persone a cui è più legata. Per lei, ovviamente, realizzato con pesce rigorosamente cotto, si attiene alle regole, è in dolce attesa.